Non è facile trovare nel mondo del lavoro imprese che oltre a perseguire il risultato economico si rendano disponibili in senso sociale a migliorare la qualità della vita dei loro dipendenti. Eppure anche nel nostro territorio operano delle realtà imprenditoriali illuminate che hanno assunto delle iniziative del tutto singolari che hanno riscosso il plauso delle istituzioni. Una di queste è la TECFEM, ditta che lavora nel settore delle energie rinnovabili, sviluppando progetti multidisciplinari che coinvolgono tutte le competenze specialistiche necessarie alla progettazione impiantistica e infrastrutturale ed elevata complessità nei settori primari dell'energia. Alla presenza dell'assessore regionale al lavoro e alla sicurezza nei luoghi di lavoro Stefano Aguzzi, del sindaco Massimo Seri, del direttore della Confindustria di Pesaro Urbino Andrea Baroni, Federico Ferrini della TECFEM ha illustrato un progetto che tira in causa 300 dipendenti tra le sedi di Fano e quelli di Lamezia Terme, trattandosi di un progetto di carattere sanitario con lui il cardiologo Andrea Pozzolini e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione Andrea Vitali. Il progetto ti abbiamo a cuore, così l'abbiamo chiamato, perché vogliamo al di là e oltre gli obblighi di legge che naturalmente ottemperiamo come tutte le aziende del territorio e non solo, vogliamo fare qualcosa di più, ovvero informare i nostri collaboratori di quelli che sono i rischi delle malattie cardiovascolari che abbiamo imparato anche grazie a questa iniziativa, a questo progetto, essere la prima causa di mortalità non solo in Italia ma anche a livello europeo rispetto a tutte le altre patologie, quindi oltre a informare anche e offrire questo progetto di screening con esami del sangue, ECG, a tutta la popolazione aziendale nella fascia di età 40-69 anni che è appunto quella più a rischio e quella alla quale può essere applicato questo modello SCORE 2 di indagine. Questo perché? Perché abbiamo appunto seriamente interesse che i nostri collaboratori non vogliamo che siano lasciati loro stessi ma vogliamo accompagnarli in un percorso di salvaguardia e prevenzione della loro salute. Ed è un progetto che si estende da Fano alla mezzia terme? Ma sì, oggi abbiamo avuto questo asse Fano alla mezzia terme, noi ce l'abbiamo continuamente, siamo nati a Fano 40 anni fa alla mezzia terme, ormai siamo presenti da oltre 15 anni con questa nostra sede che sta via via crescendo e per cui sì, il progetto è dedicato a tutti i nostri collaboratori. Il risultato e l'obiettivo concreto del progetto sarà fare in modo che il 100% dei nostri collaboratori che rientrano all'interno di questa fascia di età, che come ho detto 40-69 anni, aderisca al progetto perché il progetto naturalmente è volontario, offerto dall'azienda ma è volontario, non possiamo naturalmente obbligare nessuno a sottoporsi a degli esami clinici, però appunto l'obiettivo che l'azienda ha è quello di invogliare, coinvolgere e fare in modo che tutti quanti, 100% quindi, partecipi.